È l'ultimo burcio rimasto della sua serie che navigava all'epoca negli anni 30-40, trasportavano materiali da Monselici fino a Marghera per dire il carbone e cose di questo genere. Adesso che cosa le farete? Questa diventa un monumento, c'è la prospettiva di costruire lo squero sopra per proteggerlo, lo verrà restaurato e rimarrà qui come un monumento. Lo riusciva più a navigare? Esatto, si era aperto sotto, la tenevano su con le pompe, tanto che l'associazione l'ha regalata al settore verde pubblico e l'hanno adesata qua. Il nostro viaggio va avanti e ci diamo appuntamento davanti alla vecchia chiesa di Selvazzano con Claudio Grandis, uno storico, autore del grande volume Il Bacchiglione. Il Bacchiglione intanto è il fiume di due grandi città, Vicenza e Padova, questo non dobbiamo mai dimenticarlo, ma è anche il fiume di altre città minori che sono Este, Monselice e anche Piove di Sacco. Per quale ragione? Per il semplice fatto che il fiume si dirama in vari percorsi, in vari tratti, uno di questi è il famoso canale Visato che attraversa Este, poi arriva fino a Monselice e poi continua attraverso il canale di Battaglia. Ma una ramificazione del Bacchiglione nel tratto più a valle, cioè verso Vovo Lenta, quello che si chiama il Roncaiette, alimenta il fiumicello che è il canale che attraversa Piove di Sacco. Quindi sono ben cinque centri del Veneto che sono attraversati dalle acque di questo fiume. Ma perché una volta i grandi centri abitati sorgevano lungo il fiume? Per il discorso della navigabilità. Cioè non è un problema di rifornimento idrico, ma è soprattutto un problema di navigabilità. Cioè le vie d'acqua sono state fino all'inizio del Novecento la via principale per il trasporto delle merci, delle persone, per il spostamento, per il movimento. La vita del Barcaro era dura quanto quella di tutti all'epoca, ma forse anche di più. Eppure non ce n'è uno che non la ricordi con lacrime e orgoglio. In un'epoca in cui vedere Venezia era un sogno, neanche in viaggio di nozze se arrivava così lontano, loro arrivavano in piazza San Marco dal cuore della città, cioè dall'acqua. Dalla metà del 1900 le strade si fanno via via più comode e sicure, migliorano i trasporti e la navigazione sui fiumi piano piano scompare. Il Bacchiglione, il Brenta, l'Adige diventano semplici scolmatori delle piogge, utili tutto al più all'irrigazione dei campi. Resiste qualche vecchio sabbionaro che scava il fiume per estrarre la sabbia, curando nello stesso tempo la pulizia dell'alveo. Un'opera importante per garantire lo scorrimento delle acque. che era più grosso, un 45 cavai e dopo dal 66 ora che monta qua le varie sabbia qua a pompa, a spinante, e ora facciamo già 150 metri di sabbia al giorno. E ora è stata quando? E abbiamo comprato il 66, che è l'anno del famoso dell'acqua che resta enorme. Anche il pesce da tempo è molto diminuito, soprattutto dopo l'apertura di un canale sotterraneo che a riparo da occhi indiscreti porta nel Bacchiglione gli scarichi delle concerie vicentine. E dopo che ho avuto quel famoso canale al cimitero del Cervo di Settacro, che è Monte Caldea, si è sparito tutto, perché praticamente il canale sotterraneo portaria tutto quanto e l'acqua delle concherie di Erginian, si è che non c'è più scardo, non c'è più erbe, non c'è più niente. Ma anche i vecchi sabbionari come Reginaldo negli ultimi anni spariscono. Il fiume è abbandonato, retaggio di un passato glorioso lasciato a se stesso. Non basta guardare tutte quante le chiese, attaccando da Montegalda, da Creòa, da Selva Sanis, e tutto quanto il fiume, sì che era navigabile, no? Capito? Adesso il gioco è andato a smettere, nell'abbandonare, diremmo così, è una roba di idea che avremo l'acqua. Questa alluvione è capitata in un sistema che sostanzialmente non ha visto attuati nessuno dei grandi interventi indicati da tempo. Si parla di rischi idraulici in questi fiumi lasciati in abbandono. Il problema è che se ne parla solo. Aveva detto qualche anno fa Luigi Dal Paos, eminente studioso di idraulica dell'Università di Padova. Poi, il 31 ottobre 2010, una serie di condizioni sfavorevoli. Vento di scirocco, il caldo, il disgelo, le forti piogge e scatenano l'inferno. I fiumi rompono gli argini, l'acqua invade tutto. L'alluvione colpisce 131 comuni, coinvolgendo una popolazione di oltre 500.000 abitanti. Gli sfollati sono 6.670, 15 le rotture di argini, le sondazioni e gli allagamenti 29 su una superficie complessiva di 140 km2. Muoiono sotto la furia dell'acqua 230.000 animali di allevamento. Il rischio c'era ed è stato sottovalutato. Come si è sviluppato il nostro territorio negli ultimi anni. Il Veneto ha avuto una grande esplosione economica negli ultimi 30-40 anni. Abbiamo però dovuto pagare uno scotto, un'urbanizzazione selvaggia, una forte antropizzazione del nostro territorio e non dimentichiamo un esplodere di piccole e piccolissime aziende in maniera incontrollata che hanno in qualche modo compromesso il nostro territorio. I fiumi che prima avevano un alveo cosiddetto naturale e che convivevano con l'assetto territoriale e urbanistico del tempo sono diventati un problema. E sono diventati un problema perché abbiamo costruito a ridosso degli argini, abbiamo addirittura costruito sulle sommità arginali, abbiamo costretto i fiumi a convivere, a condividere spazi sempre più limitati, abbiamo cementificato moltissimo e questo oggi in qualche modo determina alcune situazioni di criticità. Oggi 108 comuni del Veneto restano a rischio alluvione. Da un'indagine di legambiente risulta che solo il 45% dei comuni interpellati ha svolto un lavoro di mitigazione del rischio idrogeologico. In questi giorni i comuni della regione Veneto hanno iniziato un lungo braccio di ferro sui finanziamenti per consolidare gli argini e mettere in sicurezza il territorio. Ieri i sindaci sono scesi in piazza guidati dal primo cittadino di Ponte San Nicolò, Enrico Rinuncini. Ma noi sindaci solitamente utilizziamo le carte, utilizziamo le lettere, chiediamo convocazioni, riunioni con tutti gli enti sia dal punto di vista tecnico che politico. E questi sono tutti gli strumenti che sono stati usati dall'amministrazione comunale di Ponte San Nicolò e dalle amministrazioni vicine per chiedere una cosa molto semplice, la messa in sicurezza dei nostri argini. Sono passati praticamente 5 mesi, sono passati 150 giorni e dal 2 novembre, notte in cui ha rotto l'argine a Ponte San Nicolò, non è ancora successo nulla se non la chiusura della falla a Roncaiette. Tutto il resto, tutti gli altri punti del nostro territorio comunale compromessi, in particolar modo, in frazione Roncaglia, dove abbiamo circa 8 mila abitanti, che è il punto più densamente popolato di tutta l'asta del Bacchiglione, da Padova fino al mare, lì abbiamo un punto veramente delicato e molto compromesso nel quale chiediamo di intervenire. Sono stati finanziati solo i lavori per riparare le falle, insiste anche Anna Lazzarin, primo cittadino di Veggiano. Ci spiega, dati alla mano, come finora non ci sia alcun intervento strutturale per mettere in sicurezza tutto il tratto del fiume che esiste sul suo comune. Anzi, ci dice, dall'alluvione di novembre, se possibile, la situazione è peggiorata. La Regione e Genio Civile stanno stanziando fondi solo per l'emergenza, dice il Sindaco di Veggiano. Non c'è un programma complessivo per mettere in sicurezza il nostro territorio. Gli stanziamenti previsti per le opere urgenti sono le opere di somma urgenza che sono già iniziate a novembre nel periodo dell'alluvione e che adesso lo staff commissariale ha approvato la copertura finanziaria perché quando si lavora in emergenza non c'è copertura finanziaria, ma si tratta delle stesse opere di novembre. Come sono lontani i tempi in cui il fiume era un luogo ricercato, fonte di economia e benessere, in questi comuni c'è chi svende la casa e per trasferirsi in località più sicuri, lontano dalle acque. Prevediamo di avere a breve una emigrazione di un certo livello. Noi che negli ultimi anni siamo sempre stati un paese di forte immigrazione perché siamo aumentati in ultimamente gli ultimi anni perché il nome Veggiano, paese alluvionato e paese soggetto all'alluvione porta a senz'altro un'immagine negativa, insomma per cui abbiamo tante case in vendita e abbiamo per esempio un patrimonio edilizio costruito bloccato perché il mercato si guarda adesso perlomeno all'immediato da puntare ancora su Veggiano. L'alluvione ha dimostrato come il Veneto aveva bisogno di un piano di manutenzione straordinario che non si limiti ad affrontare l'emergenza ma che permette l'adeguamento di tutto il sistema idraulico dagli impianti drovori alle casse di espansione, dai canali alle vasche. Dopo l'alluvione del 1966 una commissione parlamentare, la Commissione dei Marchi, aveva studiato per anni le opere necessarie per rendere più sicuro il territorio del Veneto. Secondo gli esperti era necessario realizzare alcuni invasi a Monte di Padova e Vicenza per trattenere l'onda di piena. Opere proiettate in alcune decine di anni ma nessuna è stata conclusa. Con lo scempio dell'idrovia Padova-Venezia, un lungo canale che avrebbe dovuto collegare l'interporto di Padova alla laguna di Venezia per scolmare tutte le acque in caso di piena su Padova e muovere le merci in maniera più ecologica. Avrebbe una funzione di un certo rilievo perché ridarebbe flessibilità di manovra al nodo idraulico di Volta Barozzo e garantirebbe maggiore sicurezza alla bassa Padovana. L'interporto, situato nella zona sud-est della città, oggi funziona a pieno regime. Circa 1200 aziende e più di 25.000 addetti lavorano in un'area che si estende per 11 milioni di metri quadri. Ma l'idrovia è stato un vero e proprio buco nell'acqua all'italiana. Per quest'opera sono stati spesi dal 1963 al 1992 quasi 300 miliardi di lire. Oggi l'idrovia tra Padova-Venezia è costruita per poco più della metà. Dei 27 chilometri dell'ipotetico tracciato ne sono stati realizzati circa 17. 13 chilometri partono dall'interporto padovano nella zona industriale e si fermano a ridosso del fiume Brenta nella zona di Vigonovo. Altri 4,5 si spingono dalla laguna fino a Piazza Vecchia, dove l'idrovia all'improvviso scompare. Nel mezzo 13 inutili viadotti. Mica male spendere 154 milioni di euro per far annuotare quattro papere. Torniamo sul fiume per incontrare le poche persone rimaste a faticare sull'acqua. Dopo l'addio di barcaioli e sabbionari, sono i tanti appassionati che con barche di ogni tipo percorrono in lungo e in largo il Bacchiglione. Sul fiume non si può non parlare di sport. Con noi siamo sull'imbarcadero della canottiera di Padova, Rossano Galterossa. Qual è il tuo rapporto con il fiume? Beh, con il fiume Bacchiglione, direi che dall'85 lo incontro quasi quotidianamente. Inizialmente, dopo, piuttosto spesso, ho fatto salvo poi periodi in cui sono stato fuori Padova per impegni con la nazionale, con le competizioni. Rossano Galterossa, quattro medaglie olimpiche e quattro mondiali, è un vero e proprio mito del canottaggio. Fa parte della società Canottieri Padova, anche questa pesantemente colpita dall'alluvione. Rossano ci mostra il livello dove è arrivata l'acqua, 20 centimetri sopra la quota dell'alluvione del 1966, sfondate decine di barche. Anche noi, come società, come Canottieri Padova, abbiamo avuto tutta l'area, che sono quasi 50.000 metri quadri, sommersa da circa 2 metri e mezzo d'acqua, quindi abbiamo stimato qualcosa come 100.000 metri cubi d'acqua e fango.